Il sogno spezzato da un drammatico incidente, quello di Luna Benedetto, la 15enne morta in un incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì scorso. Sempre voluto percorrere la strada della vita sulle punte, quello per poter arrivare al sogno più grande magari della Scala di Milano, ma nel frattempo anche qualche altra bella iniziativa, come il videoclip della canzone Bruciare per te, di Elisa, di Girato, Trattore Guaceto e la campagna Vrendisina. Artista italiana di fama internazionale che ha avuto un pensiero per la povera Salentina scomparsa in un drammatico incidente. E così l'artista goriziana con un post ha espresso tutto il suo dolore per quella giovane ballerina che aveva collaborato con lei in un video. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e agli amici di Luna, ha scritto Elisa sui social. Quando l'ho conosciuta era ancora una bambina ma aveva una luce magnetica e la scegliamo per partecipare al videoclip di Bruciare per te. Non ci sono parole per colmare il dolore provocato da una giovane vita che si è spezzata. Un riconoscimento importante da parte di un artista internazionale che ha scelto di avere un pensiero per una giovane ragazza che sarebbe potuta anche diventare l'orgoglio di tutto un territorio.